Ciao a tutti ragazzi, oggi abbiamo in riparazione sul banco questo notebook Hacer. È un bel notebook i7 come processore. Vi faccio vedere un attimo subito il modello. Allora, è un notebook i7 con scheda video Nvidia GeForce. Il modello esatto, vabbè, è scritto dalla parte posteriore. Magari lo scriverò nel video successivamente. Allora, il problema di questo notebook è che il cliente l'ha mandato in assistenza dicendo che non si accende. Quindi ovviamente è stata un po' complessa la situazione capire il perché. Ci siamo prima accertati che effettivamente sì, non si accendesse. In effetti, dando l'alimentazione col suo alimentatore portato, ovviamente nessuna tensione in uscita. Quindi ovviamente, o meglio, nessun segno di vita da parte del notebook. Ovviamente, controllando per bene l'alimentatore, ci siamo già accorti che l'alimentatore non dava tensione in uscita. Quindi collegandolo sul suo spinotto, questo è l'alimentatore originale, sullo spinotto suo, qua, non dava i 19 volt. Quindi non dando i 19 volt, c'è già un problema sul suo alimentatore originale. Ovviamente, cosa abbiamo fatto? L'abbiamo sostituito con un nostro alimentatore e ci siamo accorti che non appena alimentavo il connettore, l'alimentatore che avevo io, quello compatibile, classico, diciamo, per poter testare i computer, andava in protezione. Quindi assorbimmo il massimo perché quindi c'è effettivamente un corto sulla scheda madre. Dunque, detto ciò, mi sono trovato costretto quindi a smontare tutta la scheda madre e analizzando per bene la scheda madre mi sono accorto che nel momento dell'alimentazione, nel momento in cui collegavo l'alimentazione accadeva un bel problema, cioè surriscaldavano i MOSFET di alimentazione, quelli subito dopo il connettore di ricarica. Quindi qui c'è il connettore di ricarica, subito dopo aver inserito il jack di alimentazione mi accorgevo subito che i due MOSFET, che sono subito dopo il connettore, riscaldavano tantissimo. Ovviamente questo ci fa capire che c'è un corto netto sulla scheda madre, quindi misurando col tester qui il corto non era presente. Però effettivamente una volta data l'alimentazione i due MOSFET erano completamente in corto perché surriscaldavano. Quindi abbiamo sostituito i MOSFET ma non è servito a granché, nel senso che ha risolto il problema sui due MOSFET ma i due nuovi MOSFET riscaldavano comunque tanto. Questo perché? Perché nella parte restante della scheda madre in effetti c'era un altro corto. Abbiamo trovato altri tre condensatori in corto e altri due MOSFET. Abbiamo risolto quindi poi il corto e ho testato la scheda madre. Adesso la scheda madre testando la banco funziona, però non ho provato ancora a vedere se mi carica la batteria del notebook e se si accende. Quindi adesso facciamo la prova insieme. È una prova che mi sono riservato di provare all'ultimo. Ovviamente per capire un attimo il corto ho anche tolto le RAM, tutto quanto, ho anche fatto la pulizia della pasta termica. Dopo pubblicherò poi sul nostro sito www.disotech.it.it le foto di tutta la riparazione in modo tale che si vede anche quello che è stato eseguito. Quindi adesso colleghiamo un attimo il notebook, o meglio colleghiamo un attimo la scheda madre, perché ho bisogno di verificare due cose. La prima se si accende, la seconda se carica anche la batteria, perché quindi abbiamo scoperto che il suo alimentatore è completamente in corto e quindi è danneggiato. E il cliente sicuramente al 100% quindi lo deve sostituire. Ma oltre al caricatore, ora va capito un attimo, tutto il resto del notebook funziona, la batteria carica, quindi ovviamente dobbiamo cercare di capire queste cose qua. Altrimenti ci sarà da controllare anche tutto il resto. Allora, inseriamo per bene la scheda madre. Questa purtroppo ha degli incastri abbastanza delicati perché è fatta ad hoc su misura, giustamente. Allora, mentre ecco qua, perfetto, va bene. Quindi qui c'è un cavo, deve passare da sopra. Ok, allora la scheda madre l'abbiamo rimontata. Adesso colleghiamo i flat principali, quindi facciamo una prova a collegare l'hard disk. Però faremo un tentativo prima ad andare nel BIOS, quindi ci renderemo conto effettivamente se funziona. Allora, questo è il flat del display. Uno. Questo invece sarà il flat della fotocamera, quindi possiamo anche evitare di collegarlo per il momento, tanto dobbiamo soltanto verificare che funzioni tutto. Le ventole le ho già collegate, inizialmente le ho scollegate, però poi dopo aver risolto il corto, va bene, ricolleghiamo tutto così poi non stiamo a ritogliere tutta la scheda madre. Quindi, hard disk collegato, queste sono le casse, la batteria per il momento non la colleghiamo, la webcam non la colleghiamo, queste sono le antenne per quanto riguarda la scheda Wi-Fi. Allora, alimentiamo il notebook e vediamo cosa accade. Allora, innanzitutto, non possiamo accenderlo se non li colleghiamo almeno una tastiera. Perché? Perché il tasto power è sulla tastiera. C'è un modo anche per attivarlo senza, ma adesso sono senza schema elettrico, quindi anziché stare a impazzire per capire quale è il tasto power, colleghiamo direttamente alla tastiera un attimo, non ci cambia la vita. Allora, con i cavi delle antenne, togliamoli così non ci danno fastidio, senza tanto, non dobbiamo chiudere il display. Allora, colleghiamo al volo la tastiera. Ok, allora, dobbiamo fare molta attenzione perché poi adesso non è bloccato nulla, quindi è tutto molto delicato. Quindi accendiamo l'alimentatore e diamo tensione nel connettore. Ecco qua, allora, voi non lo vedete, ma io dal connettore di alimentatore già vedo che non c'è il corto. Proviamo ad accendere e tentiamo di entrare in F1. Vedo già le spie che sono accese, ecco qua il display, perfetto, funziona. Notebook riparato. Si è spento perché? Forse perché ho sbagliato avvio. Dovrebbe essere F1 e F2 per farlo entrare nel boot, nel BIOS. Allora. Eccolo qua, ottimo, ottimo, lo faccio vedere anche a voi. Quindi, perfetto. Questo è il notebook. Ora l'ultima cosa che mi rimane da verificare è se funziona la batteria. Quindi in realtà se il circuito di carica del notebook funziona. Quindi una volta spento, colleghiamo ora la batteria. Che non so se è carica, ma non penso, dovrebbe essere completamente scarica. Dato che il prodotto era completamente in corto, la scheda madre, la batteria non può essere assolutamente carica. Facciamo una prova. Ok, allora la batteria l'ho collegata. Se proviamo ad accendere, che fa? Morto completamente, perfetto. Allora, perché giustamente la batteria è scarica. Colleghiamo il connettore di alimentazione. Vediamo un attimo. Allora, di qui non vedo nessuna carica dalla batteria. Quindi da qua sembra che... Ah, ecco qua, sì, è partita. È partita la carica, perfetto. Si può vedere dal LED arancione, non so se si vede dal... Sì. Perfetto, la carica è partita dall'alimentatore, vedo che sta assorbendo. Quindi vi garantisco che al 100% il prodotto è stato riparato e quindi possiamo consegnarlo al cliente. Ovviamente lo dobbiamo chiudere per bene. Riproviamo ad accendere un'ultima volta. Entriamo nel BIOS, già che ci siamo. Eccolo qua, perfetto. Prodotto riparato al 100%. Quindi possiamo chiamare il cliente, avvisare. E fare il preventivo. Per qualsiasi informazione, rimaniamo comunque a completa disposizione. Se volete potete iscrivervi sul nostro canale YouTube, oppure scriverci all'indirizzo mail assistenza-disotech.it Grazie a tutti. Buona serata. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.